Il ponte Carlo di Praga, dove vai pure? Non vuoi farti vedere sul ponte di Wirzburg? Perché delle streghe? I cavalieri teutonici non si occupavano delle streghe, si occupavano di difendere l'Europa dalle invasioni. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!